come utilizzare la formazione come strumento di marketing. Ovviamente il target che io ho scelto per questo webinar è quello delle piccole e medie imprese che si occupano del digitale. Digitale inteso in senso molto molto ampio. Tra un attimo vi chiederò anche di che cosa vi occupate voi perché ovviamente per me è interessante capire che tipo di mercato e di business è quello di cui vi occupate e di cui si occupa la vostra organizzazione. Parleremo di formazione come strumento di marketing e mi rendo conto che può sembrare un po' strano perché solitamente la formazione ha un inquadramento molto più legato al mondo delle risorse umane, dell'acquisizione di competenze e invece in questo caso ne parliamo appunto come strumento di marketing. di comunicazione della propria organizzazione e dei propri servizi. L'abstract lo dovreste conoscere insomma, l'avrete visto in fase di iscrizione quindi lo saltiamo. Presentiamoci, quindi partiamo da chi sono io, chi siete voi in modo tale che abbiamo un minimo di idee anche se ovviamente nel digitale è sempre molto molto vaga. Allora io sono Martina Mastromarino e mi occupo in Quiddys che è la divisione che si occupa di e-learning in particolare quindi formazione digitale all'interno di Grammelot, un'azienda, una PMI appunto visto che ne stavamo parlando prima che si occupa di consulenza in ambito digitale inteso in senso abbastanza ampio. Quiddys appunto come dicevo è la divisione che si occupa di formazione digitale e io in particolare all'interno di Quiddys svolgo un ruolo diciamo così duplice che verrà un po' poi rispecchiato nel contenuto del webinar. Infatti io entro in azienda come responsabile marketing quindi il mio ruolo principale è quello di promuovere quello di cui si occupa Quiddys e Grammelot in generale in particolare Quiddys che è proprio il focus di oggi. Nasco come responsabile marketing però poi diciamo che mi sono anche molto appassionata a quello che è l'area di lavoro di Quiddys quindi tutto quello che è formazione digitale e ho messo insieme un po' queste mie due anime proprio da una parte offrendo consulenza in ambito formazione digitale e dall'altra appunto occupandomi, continuando a occuparmi del marketing per la nostra azienda. Quindi un po' ecco perché vi parlo di queste due cose messe insieme perché poi ho potuto sperimentare io stessa con i nostri clienti insomma con quella che è stata la nostra esperienza come le due cose non siano in realtà così distanti. Adesso vi chiedo appunto di aprire Mentimeter al link che vi è stato condiviso. Ecco vedo che avete già risposto in alcuni alla prima domanda adesso cominciò a guardare un po' le risposte che mi avete dato. Vedo cose molto varie. In realtà vedo intelligenza artificiale, vedo digital marketing, servizi digitali in generale, software immagino si intenda sviluppo principalmente. software diventa sempre più grande, siti web, CRM, ok quindi siamo sempre nell'ambito dello sviluppo ma sotto vari aspetti, aziende private, EPA, digital mining ovviamente, process mining, vedo consulenza, scusate se mi vedete però davanti il telefono con le vostre risposte che si muovono come potete ben immaginare. diciamo che software è la parola più grande quindi immagino che la maggior parte di voi si occupano di sviluppo software che poi vuol dire tutto e non vuol dire niente anche noi ci occupiamo di sviluppo software in un ambito molto specifico che è quello della formazione però diciamo che alcune dinamiche possono essere comuni indipendentemente da qual è il focus in realtà dell'azienda possono valere un po' per tutto quello che è di ambito digitale ecco vedo anche cyber security perfetto allora adesso vi chiedo invece qualcosa di voi sempre su Mentimeter c'è un'altra domanda di cosa ti occupi tu in azienda ho messo delle opzioni in questo caso giusto per collocare voi e il vostro ruolo quindi per capire un po' con chi sto parlando se sto parlando con HR se sto parlando con responsabili marketing con direttori d'azienda eccetera quindi vedo che ci sono diverse persone dell'area tecnica diverse persone del marketing giusto direi che sono qui vedo ancora aspetto ancora qualche minuto per le risposte così do a tutti il tempo di partecipare se qualcuno si è collegato nel frattempo c'è allora in Mentimeter dove inserisco il codice se usate il link non vi serve nessun codice dovreste finire direttamente all'interno delle mie domande se invece vi collegate a Mentimeter senza usare il link che vi abbiamo condiviso allora vi chiede il codice per entrare nel questionario specifico quindi in realtà il codice potrebbe non servirvi se semplicemente cliccate sul link adesso Daniela ha gentilmente ricondiviso il link per tutti in modo da darvi la possibilità ecco vedo che stanno arrivando altre risposte quindi presumo che tutti i dubbi siano siano stati risolti vedo che la maggior parte si occupa di marketing in realtà rimangono persone dell'area tecnica qualcuno che si occupa insomma della parte più diciamo gestionale dell'azienda qualcuno anche delle risorse umane e della formazione in realtà è chiaro oggi quello di cui stiamo parlando è un po' un tema ibrido nel senso che va a toccare diversi interessi all'interno dell'azienda e implica anche la collaborazione lasciatemi dire tra diverse aree aziendali quindi è assolutamente normale che il pubblico sia vario allora andiamo un attimo avanti ora la domanda che vorrei farvi proprio prima di iniziare a parlare visto che oggi parliamo di marketing di promozione delle aziende ICT digitali insomma tutto quello di cui vi occupate vorrei chiedervi sempre utilizzando Mentimeter cosa utilizzate voi in azienda per farvi conoscere quindi quali strumenti utilizza la vostra azienda per promuovere la propria offerta all'esterno con i nuovi clienti con chi non è ancora vostro cliente quindi se andate sempre su Mentimeter dovreste vedere la nuova domanda ecco vedo già che stanno arrivando delle risposte social network, fiere, eventi organizzati da voi ecco blog anche aspettiamo un qualche attimo che si settino le risposte per adesso le fiere stanno vincendo insieme ai social network ecco diciamo il digitale sta prendendo piede anche nelle nostre risposte c'è qualcuno che ha scelto la risposta altro magari se vuole proprio nel campo delle domande scrivermi appunto che cos'è questo altro così insomma abbiamo un'idea in ogni caso appunto riassumendo velocemente vedo che i social sono diciamo il mezzo preferito seguono le fiere di settore il blog aziendale gruppi di lavoro e networking siamo in Assintel in questo momento quindi penso che tutti in qualche modo utilizziamo questo tipo di sistemi eventi organizzati da voi che possono essere ovviamente di varia natura e poi c'è questo altro che non sappiamo bene cosa sia vi dico subito in realtà è chiaro che adesso faccio apparire a schermo insomma più o meno le cose a cui avete già risposto è chiaro che anche noi in azienda di fatto abbiamo utilizzato tutte queste cose siamo partiti dal blog aziendale in cui raccontavamo un po' quello di cui ci occupavamo per farlo conoscere all'esterno e farci conoscere i social ormai ovviamente sono uno strumento di cui non si può fare a meno ovviamente a seconda di qual è il target noi per esempio come azienda lavoriamo principalmente nel B2B quindi con altre aziende ovviamente il nostro social è LinkedIn se si lavora un po' più a livello consumer quindi si ha a che fare direttamente con l'utilizzatore finale allora magari altri social sono più adatti ovviamente nel nostro caso magari nella maggior parte siamo appunto B2B fiere di settore fiere di settore fondamentali sono ancora secondo me uno degli strumenti principali per farsi conoscere perché permettono ovviamente di entrare in contatto con altre realtà e quindi attivare non solo trovare clienti ma anche attivare delle collaborazioni che possono ovviamente essere utili per crescere e per ampliare la propria fetta di mercato gruppi di lavoro e networking ne abbiamo già detto siamo in Assintel che ovviamente nel mondo dell'ICT è sicuramente il gruppo più importante e quindi questo può essere sicuramente un modo per farsi conoscere anche qui per attivare un networking che è utilissimo per testare la propria rete appunto non solo di clienti ma anche di possibili partner organizzazione di eventi qui ovviamente c'è un'azione un po' più attiva nel andare proprio a creare qualcosa che può essere un webinar come quello che di fatto sto presentando io oggi oppure un evento dal vivo ovviamente non dimentichiamo sempre che l'analogico ecco è sempre ancora presente nelle nostre vite perché fare formazione per promuoversi? adesso anche qui prima di rispondere a questa domanda a darvi la mia risposta ovviamente quello che è il mio pensiero vi invito ancora una volta ad andare su Mentimeter e a rispondere a questa domanda cosa vi viene in mente quando diciamo formazione? voglio un attimo capire al di là del fatto che oggi parliamo di formazione e marketing qual è secondo voi diciamo il focus della formazione? formazione che cosa significa? cosa per cosa serve? per cosa viene utilizzata all'interno dell'azienda? nella vostra? in quelle con cui siete entrati in contatto? quindi se andate su Mentimeter aspetto un po' delle vostre idee legate a questa a questa parola vedo crescita che mi è mi è comparso competenze nuove competenze aggiornamento formazione tecnica workshop e brainstorming quindi nascita di nuove idee consolidazione di competenze quindi dall'altro lato rafforzare le competenze già apprese aggiornamenti quindi rimanere aggiornamenti aggiornamento vedo quindi rimanere sempre al passo con i tempi ovviamente nel mondo digitale nulla è statico ecco anzi si invecchia molto in fretta le idee e anche i contenuti invecchiano molto in fretta innovazione assolutamente carriera competenze ancora una volta sta diventando sempre più più grande quindi più o meno l'idea è questa cioè quando parliamo di formazione nella nostra mente abbiamo in mente qualcosa che ci aiuta a crescere ovviamente a livello lavorativo quindi da un punto di vista tecnico da un punto di vista delle competenze legate proprio al nostro lavoro abbiamo in mente un rimanere al passo con quelle che sono le trasformazioni che ci sono al di fuori quindi appunto come dicevamo soprattutto nel mondo digitale ma lasciatemi dire non solo e abbiamo in mente un'idea di rafforzamento quindi di diventare più forti da un punto di vista ovviamente in questo caso parliamo principalmente di lavoro vedo anche molto interessante un comunità quindi un'idea di formazione come un modo di unire le persone un po' mi verrebbe da dire un modo per fare team working un po' all'interno dell'azienda quindi mettere le persone all'interno di una stessa aula virtuale o fisica permette in qualche modo di farle diventare un gruppo anche se magari appartengono a reaziendali diverse ora focalizziamoci su ok prima di passare alla prossima domanda focalizziamoci su perché fare formazione per pomoversi perché secondo quella che è la nostra esperienza la formazione può essere un giusto mezzo di promozione ecco in primo luogo ovviamente che è l'obiettivo poi della promozione attrarre nuovi possibili clienti quindi ampliare il proprio mercato dicevamo prima che gli eventi il networking sono tutti modi per farsi conoscere da più persone però la formazione anche può essere un modo per farlo perché in realtà vado a colpire in un modo molto diverso da quello che è la solita promozione dire io vendo questo io mi occupo di questo io offro quest'altro può essere un modo per mettere sul mercato un prodotto a basso costo o addirittura gratuito ovviamente noi sappiamo che soprattutto nell'ambito digitale ci sono alcune soluzioni che offriamo come aziende che non necessariamente sono così a basso costo ma è giusto che sia così perché dietro magari c'è una ricerca c'è una necessità anche di aggiornamento come dicevamo prima molto importante quindi la formazione può essere un altro tipo di prodotto che viene offerto dalla nostra azienda in questo caso a basso costo adesso ovviamente andando avanti vedremo anche come come fare farvi conoscere come esperti in materia ottenere fiducia poco fa abbiamo parlato di diversi modi per farsi conoscere diversi di voi mi hanno detto che hanno utilizzato o utilizzano un blog aziendale io stesso ho scritto per il blog aziendale della mia azienda e quello chiaramente è un modo per farvi conoscere come esperti perché parlare in un determinato argomento su un blog magari sviscerandone i dettagli oppure cercando di dare una panoramica su determinati temi è un modo per apparire ovviamente esperti di quel tema la formazione può fare di fatto lo stesso io ti insegno qualcosa perché io lo conosco bene perché sicuramente io ne ho padronanza e di contro come diciamo risvolto della medaglia se io sono esperto in qualcosa ottengo anche la tua fiducia quindi se tu un domani avrai bisogno di un consiglio ma anche appunto di acquistare qualcosa nell'ambito di cui io mi occupo se ti fidi di me se mi consideri comunque un esperto di quella materia avrai più possibilità di rivolgerti a me apparire diversi rispetto ai competitor è chiaro che qui noi viviamo in un mondo che è quello della diciamo delle aziende digitali dove molti di noi sono sovrapponibili chiaro non abbiamo tutti lo stesso prodotto non abbiamo tutti gli stessi servizi però i temi magari che andiamo ad affrontare l'abbiamo visto anche prima sono in un numero grossomodo ridotto soprattutto andiamo a cogliere quelli che sono magari gli aspetti che sono più lasciatemi dire in voga dove c'è più attenzione perché è giusto che si vada ad approfondire in quelli si vada a creare diciamo nuove soluzioni in quegli ambiti lì la formazione può essere un modo per differenziarsi quindi anche se tutti ci occupiamo di cyber security mi viene in mente o tutti ci occupiamo di learning il fatto che io ti insegni qualcosa della cyber security o dell'e-learning può essere un modo per rendermi diverso da invece il mio competitor che ti vende un prodotto e basta quindi è chiaro che è un modo diverso di porsi anche nei confronti del cliente creare un'esca per possibili upselling e cross selling non so se a tutti è chiaro il concetto di upselling e cross selling fondamentalmente è nel mondo delle vendite l'idea di venderti un prodotto o più costoso o più complesso insomma di valore maggiore o un prodotto che è simile a quello che tu hai già acquistato complementare o comunque vicino a partire appunto da un acquisto iniziale che come dicevamo potrebbe essere a basso costo o addirittura non essere un acquisto quindi essere un prodotto gratuito quindi l'idea è che io ti do la formazione come diciamo input iniziale poi entri nella mia rete diciamo così di possibili clienti o comunque di contatti e da quel da quel momento posso venderti qualcos'altro che sia appunto complementare o che sia di valore maggiore ora vi chiedo un'ultima volta di tornare su Mentimeter e mettere in ordine di importanza i seguenti fattori vedo che avete già avete già risposto quindi guardiamo un po' quelle che sono state le vostre le vostre risposte dunque vedo sicuramente che la qualità è al primo posto fiducia del cliente al secondo unicità e poi prezzo chiaro che il prezzo non è la cosa più importante siamo siamo d'accordo in questo nel senso che fare diciamo una promozione basata sul prezzo più basso implica anche far perdere di qualità percepita al cliente del nostro prodotto adesso fiducia del cliente sta salendo rispetto a qualità unicità rimane rimane fermo al terzo posto ovviamente lo dicevamo prima non è così semplice nel mondo del digitale essere unici si possono trovare dei modi per differenziarsi all'interno della propria proposizione ma anche proprio nel modo di porsi nei confronti dei clienti fiducia del cliente diciamo che sia assestato al primo posto ma è chiaro perché al di là di quello che io offro se il cliente non ha la certezza o comunque la percezione che affidandosi a me come organizzazione a me come persona se ovviamente parliamo di freelance o comunque di consulenti se il cliente non ha la percezione che io potrò aiutarle effettivamente a risolvere i suoi problemi che potrò offrirgli una soluzione valida non tornerà ovviamente il nostro obiettivo non è magari avere un cliente per una volta e poi magari trattarlo male e perderlo per sempre ma ingaggiarlo e tenerlo all'interno del nostro pacchetto diciamo così finché non sopraggiungono la necessità quindi questo è proprio un po' l'obiettivo ovviamente qualità è qualcosa di imprescindibile se offriamo un prodotto di bassa qualità possiamo metterci lasciatemi dire tutti gli infiocchettamenti che vogliamo quindi il marketing di fatto cosa fa va a prendere quello che noi offriamo e lo va a presentare ai possibili clienti se il prodotto però non è di qualità posso essere molto bravo a venderlo ma nel momento in cui poi il cliente ce l'ha in mano si renderà conto che non è forse quello che si aspettava ovviamente il marketing può anche essere può anche prendere in giro un po' il cliente gonfiare determinate cose però poi questo si ripercuote ovviamente nel lungo termine sul tenersi il cliente abbiamo detto quindi quali possono essere un po' di motivazioni per fare formazione ma adesso magari molti di voi staranno pensando ma io non sono un'azienda che si occupa di formazione quindi come faccio a fare effettivamente formazione io faccio cyber security faccio software faccio crm da dove riprendo i formatori da dove prendo i contenuti di un'eventuale lezione che devo che devo promuovere e qui entra in gioco appunto su che cosa facciamo formazione primo passo imprescindibile è sicuramente la collaborazione lo dicevamo prima e sono contenta che all'interno diciamo del pubblico di oggi ci siano persone che appartengono a diciamo ambiti diversi dell'azienda sicuramente le risorse umane ma perché le risorse umane hanno in mente probabilmente meglio di tutti gli altri come costruire una formazione perché di fatto nella maggior parte dei casi è anche diciamo il ruolo che si occupa poi della formazione obbligatoria di tutte quelle cose che comunque in azienda un minimo vanno fatte l'onboarding eccetera il marketing è chiaro che il marketing è centrale perché il marketing sa cosa interessa ovviamente al mercato di riferimento ma anche i tecnici sono fondamentali perché alla fine la conoscenza che noi dobbiamo andare a mettere in questo corso è quella dell'azienda il know-how aziendale e chi meglio dei tecnici conosce il tema diciamo e gli aspetti di cui si occupa l'azienda ovviamente usate il vostro know-how voi dite io non so fare formazione però avete tantissime conoscenze all'interno dell'azienda che di solito magari tramandate a chi entra entra un nuovo un nuovo collaboratore la prima cosa che si fa è si mette diciamo a conoscenza di tutto quello che è il know-how aziendale quindi se ci sono delle procedure specifiche se c'è una base di conoscenza condivisa questo viene appunto subito condiviso con chi entra in azienda perché non condividerlo anche all'esterno è chiaro che le modalità sono diverse è chiaro che devo parlare con un altro tipo di pubblico perché magari il collaboratore che entra in un'azienda che si occupa di sviluppo software è uno sviluppatore quindi è chiaro che parliamo la stessa lingua se invece devo raccontare lo sviluppo software a chi sta fuori dalla mia azienda magari non ne capisce molto ecco lasciatemi dire però anche questo anche per questo è importante la collaborazione fra le varie figure perché magari il modo in cui un tecnico spiega l'HR come sviluppa il suo software è molto simile a come lo può spiegare all'esterno dell'azienda dando ovviamente per scontato che quell'HR non sia necessariamente un programmatore convertito alle risorse umane ma possa essere un semplice responsabile delle risorse umane che di programmazione non conosce molto se non in linea generale quindi usate il vostro know-how che avete a disposizione all'interno dell'azienda conoscete sicuramente la vostra azienda chi siete cosa rappresentate e che cosa offrite quindi qual è il vostro prodotto quali sono i vostri servizi che cosa potete dare a un possibile cliente se conoscete i vostri clienti avete già ovviamente dei clienti sapete chi state cercando per ampliare la vostra rete quindi con chi state parlando di cosa si occupano i vostri clienti quali sono le necessità che hanno queste sono domande a cui chiunque si occupi di marketing deve saper rispondere perché altrimenti non potrebbe fare nessun tipo di promozione dipendentemente da formazione o non formazione quindi ovviamente voi qualche conoscenza sui vostri clienti ce la dovrete avere e ovviamente conoscete anche il vostro mercato se io mi occupo di cyber security conosco i miei competitor so all'interno di quale mondo mi sto muovendo quindi so quali sono i temi magari che in questo momento vanno più di moda quindi quelli a cui tutti sono più interessati so quali sono i bisogni generali a cui bisogna rispondere so qual è la legislazione quindi cosa deve fare un'azienda per essere in linea con le richieste legislative io lo so magari il mio cliente non lo sa però posso usare questa conoscenza per andare proprio a creare questa formazione quindi mettere insieme un po' quella che è la conoscenza aziendale i diversi punti di vista all'interno dell'azienda che possono portare questa questa conoscenza all'esterno ovviamente rendendosi conto di a chi si vuole parlare cosa lì si vuole dire quindi qui passiamo poi al al secondo al secondo punto come la facciamo questa formazione una volta che io ho stabilito che mi occupo di un determinato tema so come raccontarlo bene o male perché il mio tecnico sa parlarne con l'HR o sa parlarne con il marketing che non necessariamente sono ambiti composti da tecnici anche loro quindi ho un po' smussato lasciatemi dire il linguaggio con cui devo passare questi contenuti ho in mente più o meno quali possono essere i temi cardine da trattare quindi adesso cosa faccio fondamentalmente ci sono alcuni consigli che io mi sento di darvi sulla base di quella che è la nostra esperienza e l'esperienza dei nostri clienti che abbiamo aiutato proprio a fare questo tipo di azioni sicuramente ridurre l'investimento specialmente i costi fissi cosa intendo dicevamo prima la formazione deve essere un prodotto a basso costo un prodotto che io non devo mettere allo stesso livello necessariamente di quella che è la mia offerta principale se io sono un'azienda che si occupa di CRM e ho un mio CRM di punta che distribuisco è chiaro che la formazione non può costare quanto la licenza di quel CRM perché è un altro tipo di prodotto che mi serve dicevamo come esca quindi deve essere qualcosa di più piccolo di più semplice e di conseguenza siccome non sarà un prodotto che mi darà chissà che guadagno immediato non ci devo neanche spendere troppo perché altrimenti diventa un qualcosa che mi costa quanto il mio il mio prodotto di punta ridurre l'investimento vuol dire quindi sia ridurre i costi ma anche ridurre i tempi quindi non stare lì a costruire un master necessariamente su il mio ambito di azione ma fare qualcosa di più semplice che possa essere interessante per molti quindi anche qui io posso essere un'azienda che si occupa di un prodotto più o meno di nicchia è ovvio che a seconda di quello che noi offriamo abbiamo un pubblico più o meno ampio io che mi occupo di learning è chiaro che non è che tutti tutte le aziende del mondo abbiano un'accademia interna per esempio vadano a produrre contenuti formativi quindi non tutti sono miei clienti però all'interno di chi fa formazione io posso scegliere se colpire tutti quelli che fanno formazione o colpire solo chi fa formazione sulla cyber security quindi posso decidere quanto mi voglio spingere nel restringere la mia nicchia in questo caso ovviamente indipendentemente da quale sia la nicchia di mercato in cui operiamo questo corso questo corso è meglio che sia un po' più ampio quindi che vada a trattare un tema che sia magari un entry level del mio ambito se io mi occupo di cyber security non devo andare lì a spiegare tutti i dettagli della cyber security ma magari fare un corso che duri un'oretta che duri un'ora e mezza due ore anche meno ovviamente dico delle tempistiche di riferimento ma che tratti un argomento base di quel tema che possa essere interessante sia ovviamente per chi sta già cercando soluzioni di cyber security per rimanere nella nostra metafora ma anche per chi non lo sta cercando per chi vuole semplicemente imparare qualcosa di nuovo in quest'ambito nulla vieta che quella persona che adesso sta arrivando al mio corso solo perché vuole imparare qualcosa di nuovo un domani si renda conto che ha un bisogno e si rivolga a me per rispondere a quel bisogno modalità online online on demand perché abbiamo parlato di costi fissi abbiamo parlato di entry level abbiamo parlato di interessante per molti la modalità online on demand è certamente quella che ci permette di ammortizzare maggiormente i costi perché io vado a produrre il corso una volta e lo distribuisco potenzialmente all'infinito vado a aprire il corso a chiunque perché chiunque abbia una connessione e possa accedere alla piattaforma dove io vado a distribuire il mio corso di fatto può entrarci per farvi capire se io vado a organizzare un webinar come oggi il webinar è il 7 di novembre dalle 11 alle 12 se uno ha una call dalle 11 alle 11 e mezza a questo webinar non può partecipare è chiaro che io che vado a mettere una formazione sul mercato non posso conoscere gli impegni di tutte le possibili persone che vogliono partecipare quindi è chiaro che un contenuto on demand che può essere fruito in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo mi apre molto di più il mercato quindi mi consente di raggiungere un maggior numero di persone oltre come dicevamo ad ammortizzare meglio l'investimento perché un webinar o più webinar sullo stesso tema implica che io devo avere una persona ferma davanti al pc che parla per un'ora per due ore se invece ho un contenuto on demand io lo vado a produrre certo ho dei costi per produrle magari più o meno alti anche molto bassi in realtà lo vado a produrre però poi ho finito nel senso che lo mando sul mercato e poi non devo fare più niente di fatto se non andare a vedere chi l'ha fatto quindi ho un corso lo metto sul mercato è chiaro che poi non me ne posso dimenticare stiamo parlando di un corso che deve avere un valore promozionale deve avere un valore di marketing quindi così come se io faccio un corso in azienda vado a guardare la reportistica per capire chi l'ha fatto se gli è piaciuto quindi magari vado a chiedere un feedback ovviamente tutte queste cose valgono anche e molto di più se utilizzo la formazione per fare marketing perché a me interessa chi si è iscritto al mio corso magari posso usare anche il corso per raccogliere informazioni su questa persona un po' come ho fatto io oggi oggi vi ho chiesto di cosa si occupa la vostra azienda di cosa vi occupate voi ovviamente per me queste sono informazioni utili che io posso utilizzare per poi fare altre azioni in futuro ovviamente in questo caso era un menti in Italia io non so chi ha risposto cosa però nella maggior parte delle piattaforme dove voi andate a distribuire contenuti on demand invece sapete esattamente Mario Rossi cosa vi ha risposto al questionario e che quindi Mario Rossi si occupa di HR in un'azienda che fa cyber security queste sono informazioni molto utili ovviamente attenzione a tutto quello che riguarda GDPR raccolta di dati eccetera qui alzo la mano è ovvio che se si raccolgono dati degli utenti bisogna avere il consenso dell'utente stesso però nel momento in cui lui si va a iscrivere a un corso qualsiasi cosa ci sia all'interno di quel corso in un certo senso per lui andrà bene perché farà parte di un percorso che voi gli state offrendo controllare i dati di completamento e risultati è chiaro che a voi interessa se uno si è iscritto al vostro corso e poi non l'ha mai aperto oppure l'ha fatto in un giorno perché aveva tantissima voglia di conoscere quell'argomento questi sono tutti i dati che vi sono utili per capire anche quanto è ingaggiato permettetemi questa parola un po' brutta però engaged sarebbe il vostro il vostro target quindi è una persona interessata a questi temi è una persona che ci tiene a imparare qualcosa di più questo vi dice molto e vi consente anche poi di fare determinate azioni su questa persona specifica attestatevi partecipazione direte ma io non sono un ente di formazione perché devo ammettere attestati qui stiamo parlando di marketing attenzione in questo caso l'attestato non serve per poter dire ho fatto questo corso o due crediti ma quello che vi serve è avere qualcosa che rilasciate al vostro utente che si è iscritto al vostro corso che poi lui possa condividere e possa condividere facendo in realtà pubblicità a voi pensate io mi scrivo a il corso di questa azienda l'ho completo ho imparato qualcosa di nuovo mi viene fuori l'attestato che mi dice hai fatto questo corso base su cyber security scusate se prendo sempre questo esempio ma poi parleremo proprio di un use case in quest'ambito però ho fatto questo corso di cyber security io magari non mi occupo neanche di questo però se tu mi inviti a condividere questo attestato su linkedin banalmente all'interno del mio profilo tutta la mia rete dirà che io ho fatto questo corso di cyber security con l'azienda X magari una persona che è interessata al mondo della cyber security dice ah ma guarda fammi andare a vedere come funziona questo corso se è un corso che costa poco ed è un corso o gratuito addirittura che non comporta particolare sforzo ecco questo è una cosa da aggiungere ovviamente non deve essere un corso per cui io mi devo dannare l'anima lasciatemi dire ovviamente potrà essere un modo per cui una nuova persona arriva a voi tramite un contatto quindi l'attestato serve a questo serve a far girare il corso sul web soprattutto tramite i social che come voi stessi mi avete detto è uno degli strumenti di promozione più importanti quindi voi fate promozione del vostro corso ma saranno poi gli utenti che hanno partecipato a promuoverlo a loro volta potreste addirittura creare dei meccanismi di referral portami un'altra persona al corso e ti do qualcosa ti do uno sconto ti do un servizio in più ovviamente questo poi fa tutto parte di un piano di marketing che dovete andare a strutturare di cui la formazione sarà un piccolo pezzetto qui è chiaro che tutto quello che abbiamo detto come strumento di marketing rimane utile non vi sto dicendo smettete di fare blog fiere eventi social e cominciate a fare solo corsi di formazione questo è uno strumento nuovo nuovo perché è poco utilizzato per fare marketing non per altro per promuovere i vostri servizi quindi attestati fondamentale proprio per poter far far conoscere insomma la formazione il vostro corso all'esterno leggo un messaggio perché secondo me può essere interessante in questo momento dice le aziende si rendono conto se la formazione è di livello modesto e magari rischia di sortire un effetto opposto rispetto allo scopo a meno che per formazione non si consideri un normale seminario giusto quello che dice questo commento ma io non sto dicendo che dovete proporre un master e poi fare un corso di un'ora in cui non dite nulla dovete proprio proporre un corso entry level non vi sto dicendo di dare consulenza gratuita ai vostri utenti dicendo faccio un corso di formazione ve lo metto lì ve lo metto lì e basta è proprio quello il punto dovete proporre il vostro corso come entry level perché chi è già vostro cliente magari chi già vi conosce chi già utilizza i vostri servizi è chiaro che non sarà il target di questo tipo di prodotto il punto di questo tipo di prodotto è trovare nuove persone colpire i prospect cosiddetti cioè quelli che non sono ancora vostri clienti ma potrebbero diventarlo fare un corso base che è esplicitamente detto che sia un corso base può essere interessante poi nulla vieta che ci andate a mettere un secondo livello su abbiamo parlato di upselling è proprio questo io ti faccio il corso base che magari costa adesso vi dico dei numeri veramente a caso però faccio un corso base che costa dieci euro è un corso di un'ora in cui io ti racconto proprio le basi necessarie io spesso lo faccio con gli learning mi sono trovata a fare diversi webinar o abbiamo fatto anche dei corsi on demand sulle basi dell'e-learning che cos'è l'e-learning che cos'è la formazione sincrona che cos'è la formazione asincrona che cos'è una piattaforma lms magari per alcuni di voi saranno concetti assolutamente banali vi dico per nostra esperienza che per molti altri non lo sono e quelle persone a cui magari io insegno che cos'è un lms magari poi a un certo punto diranno capita però potrebbe essermi utile questo sistema che io non conoscevo neanche per raggiungere determinati miei obiettivi e secondo voi quando avranno bisogno di un lms se io le ho insegnato che cos'è chi è la prima persona a cui andranno a chiedere se ha quest'offerta e come funziona è molto probabile che sia io chiaro poi andrà magari anche dai competitor ed entreranno in ballo una serie di altri fattori se io costo di più se io non ho la funzionalità che gli serve questo è chiaro però intanto io ho fatto in modo che quella persona a cui ho insegnato una cosa veramente basilare poi gli ho fatto nascere un bisogno e l'ho fatta venire da me per chiedermi qualcosa in più per saperne di più quindi poi posso fare un upselling di un altro corso un upselling di consulenza un upselling di qualcos'altro è chiaro però un corso base fatto bene non parliamo di un corso brutto sia chiaro non vi sto dicendo anche qui riducete l'investimento mettete quattro slide insieme scritte storte e mandatele online e pendetelo come il vostro corso di formazione è chiaro che è un prodotto di marketing la forma è tutto l'aspetto è tutto se io mando una grafica online o se rifaccio il logo del mio prodotto non lo faccio brutto perché la grafica è importante il modo in cui io mi presento il mio cliente è importante quindi questo rimane assolutamente valido io vi sto dicendo non dovete necessariamente fare un corso di 70 ore in cui ti spiego ogni singolo aspetto dell'argomento di cui io mi occupo ma anzi ti dico il minimo indispensabile perché tu possa cominciare a farti delle domande su i tuoi bisogni come funzioni tu come organizzazione cioè la vostra idea è andare dal vostro cliente il vostro scopo è andare dal vostro cliente e mettergli un po' il tarlo in testa cioè fargli capire che probabilmente c'è qualcosa che fino a quel momento gli era sfuggito proprio a questo può servire una formazione perché se io vado dal mio cliente offro un CRM vado dal mio cliente e gli dico tu hai bisogno di un CRM cosa vi risponderà? se qualcuno di voi l'ha mai fatto sa benissimo che il cliente risponderà no assolutamente io non ne ho bisogno sto benissimo così non mi serve nient'altro non ho bisogno di nessuna piattaforma non spenderò un euro per questa cosa tutti i clienti se invece io vado dal cliente gli dico ti spiego che cos'è un CRM e come funziona io non gli sto dicendo compra il mio CRM gli sto dicendo ti insegno che cos'è un CRM una volta che lui l'ha imparato però comincerà a dire ti aspetta però il CRM mi potrebbe servire per fare questa cosa che adesso faccio manuale oppure potrebbe risolvere il problema di quella persona lì che si lamenta sempre che ci mette troppo a fare quell'azione oppure di quell'altra che non ha quel dato o di quell'altra che non riesce a comunicare quindi in realtà noi gli stiamo dicendo la stessa cosa ma glielo stiamo dicendo in un modo in cui diventa lui padrone del porsi il problema e farsi nascere il bisogno in questo senso io dico partite dal basso perché ovviamente il vostro cliente che non pensa di aver bisogno di voi possibile cliente che non pensa di aver bisogno di voi non sa neanche quello che voi offrite ma non ha abbastanza apertura spesso e volentieri per starvi ad ascoltare quindi un corso basic che parla delle basi del vostro tema e vi permette di entrare nella mente del cliente di fargli nascere delle domande può essere la chiave non sempre è uno strumento di marketing come tutti gli strumenti di marketing non è una scienza esatta neanche le pubblicità e che se io mando una pubblicità magicamente mi arrivano 200.000 clienti a volte la pubblicità ti porta a zero clienti perché magari hai sbagliato qualcosa però la puoi sempre modificare ecco perché vi dico corsi in cui investite poco fatti bene molto basici perché voi quelle conoscenze è il vostro pane quotidiano però magari poi se quello non funziona ne potete fare un altro e provare ora cambiamo un attimo slide guardiamo proprio uno use case visto che abbiamo parlato di tutta questa cosa in teoria vediamo una nostra azienda una nostra azienda cliente come ha utilizzato la formazione per fare per fare promozioni vi dicevo prima è una PME che si occupa di cyber security di fatto offre sia consulenza nell'ambito della cyber security quindi consulenza personalizzata alle aziende sia offre diciamo dei prodotti dei prodotti dei software che permettono di fare analisi dei rischi eccetera io non mi occupo di cyber security quindi se nel pubblico c'è qualcuno mi perdoni se uso termini non appropriati in ogni caso questa azienda è venuta da noi e ci ha detto dobbiamo lanciare un nuovo prodotto quindi una nuova versione del nostro software potenziata però costa tanto e la maggior parte delle aziende ci risponde che non gli serve perché figuraci se loro hanno dei rischi così grossi da dover mettere in piedi un sistema di questo tipo il loro obiettivo era ovviamente vendere questo prodotto e poi insieme al prodotto fare upselling di consulenza perché ovviamente anche quello era un loro diciamo core business quindi volevano poi arrivare al cliente e affiancarlo poi nella gestione insomma di tutti gli aspetti legati alla cyber security utilizzando il prodotto che avevano venduto insieme poi a tutta una serie di altre buone pratiche procedure eccetera sono arrivati da noi e cosa hanno fatto insomma cosa siamo andati a costruire insieme hanno fatto un corso molto breve di formazione on demand anche qui alternata webinar dicevamo prima il webinar magari come elemento primario non è necessariamente il migliore perché non mi dà l'apertura diciamo la libertà dell'on demand però loro hanno voluto unire le due cose perché perché l'on demand gli serviva per presentare le basi della cyber security come dicevamo prima far venire il dubbio al cliente che potesse aver bisogno di qualcos'altro il webinar subito dopo serviva per rispondere alle domande e in un certo senso confermare al cliente possibile che aveva quel bisogno perché nel momento in cui magari lui andava a chiedere come potevano funzionare determinate cose come potevano essere gettite ovviamente nel webinar un responsabile esperto dell'ambito rispondeva dando delle diciamo delle risposte un po' più pregnant un po' più personalizzate quindi io smetto di parlare in generale comincio a parlare della mia situazione e lì mi arriva la conferma che magari mi serve qualcos'altro rispetto a quello che sto già facendo hanno creato questo corso on demand e questi webinar in una piattaforma ovviamente lms quindi una piattaforma di gestione della formazione digitale con noi hanno venduto i corsi tramite gli shop quindi la piattaforma lms direttamente collegata con un e-commerce dove il corso era a disposizione quindi era a disposizione di possibili clienti quindi loro avevano una loro pagina prodotto diciamo così sugli shop che potevano condividere tramite i loro social tramite il loro sito quindi era un loro link che portava a quel prodotto chiunque atterrava lì poteva comprare il corso che aveva un prezzo ovviamente molto molto basso come dicevamo era un corso molto entry level loro lo vendevano chi lo comprava entrava direttamente in piattaforma quindi loro poi gestivano tramite la piattaforma tutti gli accessi guardavano la reportistica che aveva fatto il corso chi era entrato come avevo detto prima avevano una serie di questionari anche per inquadrare la persona che era entrata nel corso in modo da saperne qualcosa in più e poi l'emissione ovviamente delle attestate di frequenza che invitavano a fine del corso a condividere su LinkedIn in modo come dicevamo da far girare tra virgolette il corso al di là di quello che era la loro potenza di sponsorizzazione tramite i loro canali bassi costi iniziali perché in realtà loro sono andate a produrre un contenuto webinar un contenuto on demand scusate è un webinar singolo quindi con un'ora di contenuto on demand che era composto da video di un esperto e slide quindi molto semplice anche da produrre però abbastanza ingaggiante ovviamente poi come si fanno le cose può fare la differenza è un webinar anche qui di un'oretta giusto per rispondere alle domande che potevano avere le persone che si erano iscritte facendo solo questo quindi bassissimi costi iniziali ovviamente non sono andate a costruirsi un'academy per fare questa cosa ma hanno semplicemente affittato uno spazio sulla nostra piattaforma in questo caso per condividere il loro corso così come l'e-commerce anche qui non sono andate a costruire un e-commerce ma hanno affittato uno spazio su un e-commerce facendo semplicemente queste cose quindi costi minimi sono andati poi a ottenere tutta una serie di dati sui loro iscritti e hanno potuto poi ricontattarli utilizzare quelle lead diciamo per usare un termine marketing per fare poi tutta la loro promozione effettiva quindi li hanno iscritti alla newsletter quindi continuavano a ricevere comunicazioni sui loro servizi più o meno formative più o meno promozionali poi ovviamente anche lì rientra in una strategia di marketing più ampia hanno potuto contattarli singolarmente dire guarda che ho visto che tu nel test finale mi hai dato questa risposta vuoi che ne parliamo vuoi che capiamo insieme se possiamo fare qualcosa per te ovviamente la differenza è che io così non vado dal cliente a proporgli un servizio alla cieca non gli dico tu hai bisogno di me perché io lo so dico tu hai bisogno di me perché mi hai dato questa risposta perché secondo me questa cosa vuol dire che hai questa necessità ed è molto diverso vi dà uno strumento molto più potente per parlare con il vostro cliente quindi tutto questo insomma alla fine ha dato a questa azienda la possibilità insomma di farsi conoscere molto di più di aprirsi ad un mercato in un mercato che è quello della cyber security che non voglio dire che sia saturo però sicuramente c'è affollamento ci sono stanno crescendo le aziende che se ne occupano al contempo differenziandosi da quelli che erano i competitor quindi sicuramente facendo qualcosa di diverso che ha fatto sì che alcuni possibili clienti magari andassero da loro piuttosto che da qualcun altro ecco io così avrei terminato vi lascio insomma spazio alle alle domande se ne avete ovviamente qui trovate tutti tutti quelli che sono i miei riferimenti qui dis.com ovviamente il sito il nostro link è la mail a cui potete mandare qualsiasi tipo di domanda insomma se qualcosa non è stato chiaro durante il webinar ovviamente poi non l'abbiamo detto all'inizio ma ovviamente sia le slide che il video della presentazione verrà condiviso poi sui canali tramite i canali di Astintel quindi avrete modo poi anche di ragionare insomma su questi su questi temi ovviamente io non conto di avervi cambiato la vita oggi ma magari di avervi dato un'idea diversa per pensare alla formazione in maniera diversa e per pensare anche a un modo di promuovervi diverso lasciatemi dire in un mondo in cui come dicevamo ormai il digitale è tutto digitale è tutto digitale quindi non voglio dire che tutte le aziende ormai sono aziende digitali però sicuramente sono più di quelle che erano qualche anno fa e soprattutto le nascono di nuove ogni giorno quindi bisogna trovare un modo per emergere in questo malasma probabilmente chi c'era più tempo ha un'esperienza maggiore ma riesce veramente a farla percepire a chi sa dall'altra parte questo in realtà è una domanda che vi lascio io ho provato a darvi una soluzione proprio che vi aiutasse a dire come come presentare come presentare la vostra esperienza leggo una domanda di Stefano tutto molto chiaro a volte la chiusura mentale pesa di più nonostante il metodo di promozione secondo me vince sempre comunque il passaparola verissimo ovviamente il passaparola nel nostro ambito è fondamentale se un cliente si trova bene con noi ne parlerà ad altri però è anche vero secondo quella che è la mia esperienza che tante volte le aziende sono gelose direi delle proprie soluzioni quindi se io ho trovato un modo per fare una cosa meglio di te non necessariamente te la vengo a raccontare perché sennò poi tu la fai come la faccio io e magari diventi migliore di me quindi sì sì intendo proprio i clienti scusate leggo ancora Stefano ha scritto anche i clienti assolutamente sì anche i clienti fra di loro a volte non vogliono proprio condividere così tanto perché vi faccio l'esempio noi abbiamo piattaforme lms se a un ente di formazione abbiamo risolto la vita creandogli la piattaforma che gli semplifica tutto gli rende la gestione dei corsi più semplice la gestione degli attestati più semplice tutta la reportistica per la formazione finanziata scarica invia perché dovrebbero andare da un altro ente di formazione a dire guarda che quelli si semplificano la vita allora conviene che l'altro ente di formazione abbia diciamo difficoltà perché questo fa gioco a loro portando i clienti da loro perché magari fanno una gestione più ottimale quindi attenzione passaparola sì però non possiamo fare affidamento solo su di quello perché magari si creano anche altre dinamiche quindi il passaparola la dobbiamo creare noi se io appunto quando vi dicevo di far girare le attestati l'idea era proprio quella quindi l'idea era di creare un passaparola che magari non necessariamente genera questo tipo di contrapposizione fra le aziende cioè io ti dico che ho fatto questo corso non ti dico che ho trovato la soluzione della vita e te la voglio te la voglio condividere anche perché poi magari la soluzione che funziona per me non è la soluzione che funziona per te è una cosa anche più semplice da condividere lasciatemi dire che genera meno quel meccanismo di protezione tra diciamo competitor perché poi probabilmente molti dei vostri clienti fra di loro sono competitor non dimentichiamolo come voi avete i vostri anche loro hanno i loro quindi occhio a tutte le altre dinamiche che si vanno a generare poi chiaro il passaparola funziona sempre se diciamo si innescano meccanismi meccanismi di valore insomma in quel senso però dovete essere anche voi a diciamo favorire questi meccanismi di valore altrimenti non è che il cliente così di sua spontanea volontà si trova bene vado ad un altro diciamo lo sai che mi trovo benissimo ni ni diciamo che dovete anche voi chiedere recensioni ecco in questo in questo senso e magari ci possono essere vari modi ecco per farlo non vedo nessun'altra domanda non so se siete tutti timidi o sono stata sufficientemente chiara o poi volete farvi volete farmi scusate le domande in privato ecco vediamo che è comparsa molto giusto chiedere al cliente di recensire sì Antonio assolutamente dobbiamo dire al cliente di raccontare quello che ha fatto è chiaro che poi il cliente potrebbe dire perché dovrei farlo dobbiamo anche noi dargli un incentivo ecco perché dipende sempre cosa gli fai recensire e come gli chiedi la recensione cosa gli dai tra virgolette in cambio ritorno sempre alla questione attestati per farvi capire proprio le dinamiche che si vanno a generare se io condivido un attestato in realtà ti sto dando una recensione positiva perché sto dicendo che ho fatto questo corso che mi è piaciuto perché se non mi fosse piaciuto magari l'attestato me lo tengo per me mi è piaciuto però in realtà io sto condividendo l'attestato per far sapere ai miei contatti che ho fatto questo corso quindi da lustro a me l'attestato il fatto che lo dia anche all'azienda è una cosa secondaria quindi in realtà io lo sto facendo per me se invece io vado al mio cliente e dico gentilmente mi lascia una recensione su Traspilot mi viene in mente un sito di recensioni per aziende molto famoso lui mi può dire ma perché dovrei io mi sono trovato bene va benissimo però non sono tenuto a raccontare che mi sono trovato bene non peraltro scendendo ad esempi più semplici tante volte la recensione viene in qualche modo premiata con con altri sistemi proprio perché non è una cosa che il cliente è tenuto a fare quindi sono io che devo spingerlo a farlo anche perché poi la domanda è quanti di noi scelgono un servizio digitale una piattaforma eccetera in base alle recensioni e quanto invece lo si sceglie in base al meccanismo di fiducia che si va a innescare col fornitore e a quanto il fornitore nel momento in cui io ci parlo mi dà l'impressione di essere una persona competente cioè io posso leggere la recensione migliore del mondo di un ristorante però se ci entro e vedo i camerieri in piedi sui tavoli mi giro e me ne vado giusto per capirci se invece magari un ristorante di cui non ho mai sentito parlare però ci entro ed è tutto pulitissimo bellissimo l'ambiente mi piace un sacco poi ci mangio benissimo ci torno quindi anche qui attenzione è chiaro che poi nella promozione del marketing entrano insieme entrano diciamo tantissime dinamiche quindi chi si occupa di marketing tra i partecipanti sicuramente lo saprà però proprio per questo dico parlatevi all'interno dell'azienda tutti hanno delle necessità l'amministrazione vuole vendere di più perché vuole alzare il fatturato il marketing ha bisogno di nuovi strumenti di promozione perché magari ha finito di fare i post su LinkedIn e non sa più che cosa va a pubblicare l'HR magari ha un sacco di conoscenza la prepara per farla conoscere all'interno dell'azienda però è pronto anche per farla conoscere all'esterno i tecnici sanno un sacco di cose però magari non sono così bravi a comunicarle a chi non è del loro stesso ambito tecnico messe insieme tutte queste cose in realtà si può trovare una quadra per raggiungere un obiettivo comune però è chiaro che ognuno ha il suo pezzetto è come un puzzle no? prima se ricordate proprio nella slide della collaborazione c'era il puzzle perché io la vedo proprio così ognuno ha un suo pezzetto e ognuno deve metterci qualcosa di suo per fare in modo che poi si raggiunga l'obiettivo l'obiettivo in questo caso è allargare il laghetto dei clienti possibili assolutamente ma quello penso sia l'obiettivo di tutti ecco un'altra domanda Antonio sì hai ragione spesso i tecnici usano linguaggio molto tecnico anche quando parlano con i non tecnici è per questo che non sempre sono la persona giusta per parlare con i clienti spesso gli si mette un filtro davanti però in realtà lasciami dire è anche un lavoro all'interno dell'azienda quello di insegnare ai tecnici a non parlare tecnichese te lo dico anch'io cioè io vengo da una formazione letteraria mi occupo di marketing ho studiato anche formazione però se ho un mio tecnico che è uno sviluppatore è chiaro che parliamo lingue diverse di base però io ho imparato a comunicarci perché ho spiegato a loro come abbassare i toni e magari io qualche cosina l'ho imparata però ci deve essere una formazione da un lato nell'apprendere le basi in un determinato tema e formazione dall'alto nell'abbassare un po' i toni di fatto la formazione può servire anche a questo può servire a un vostro cliente per imparare a parlare con un tecnico può essere anche questo un obiettivo poi l'obiettivo lo dovete scegliere voi Antonio dice il marketing è un aspetto molto più profondo di ciò che appare in superficie per cui parlo per me è importante che io sappia come intervenire sulle aziende per poi avvalermi dei servizi di formazione chiaro è un aspetto molto complesso perché ci sono tante dinamiche all'interno c'è la conoscenza del cliente c'è l'offerta che l'azienda di cui tu sei parte offre al mercato e c'è quella cosa che sta in mezzo cioè c'è il cliente c'è la tua offerta devi capire come farle diciamo mischiare cioè come presentare la tua offerta perché al cliente appaia come la risposta ai suoi bisogni perché altrimenti non riesci a raggiungerlo diciamo così ovviamente la formazione può essere uno strumento per conoscere il tuo cliente per esempio per capire quali sono i suoi bisogni o per innescargli dei bisogni quindi fai il lavoro al contrario io ti conosco suppongo io che tu abbia dei bisogni anche se tu non me lo dici cerco di farti ragionare per farli venire fuori in superficie quella può essere una tecnica è chiaro che può avvenire anche il contrario non funziona con tutti i clienti tutta una serie di dinamiche però è un modo per provarci ripeto il marketing non è una scienza esatta non è fai A ne ottieni B non è come la programmazione se io scrivo una riga di codice funziona o non funziona il marketing non è così io non posso essere certa che quella determinata azione di marketing ottenga esattamente il risultato che io voglio perché poi c'è la dinamica umana stiamo parlando con delle persone ecco perché dobbiamo trovare il modo per colpire gli aspetti più umani di chi abbiamo di fronte se io ti dico io vendo la piattaforma più potente del mondo quello ti risponde a me non serve quindi in realtà il punto non è di io vendo la piattaforma più importante del mondo ma è fargli capire che lui ha bisogno della tua piattaforma ha bisogno di qualcosa la tua piattaforma è la risposta a quella cosa di cui lui ha bisogno quindi insomma questo è un po' il senso Stefano grazie per aver salutato adesso in realtà penso che sono abbiamo sforato di qualche minutino rispetto alle 12 vi invito comunque se vi interessa questo tema a continuare anche la conversazione sia via mail all'indirizzo che troverete qui sulle slide oppure cercatemi tranquillamente su LinkedIn possiamo continuare a parlarne poi anche anche in privato ovviamente a me va sempre piacere il confronto proprio perché se non conosci se non conosci i tuoi i tuoi interlocutori non puoi non puoi fare assolutamente nulla quindi vi saluto vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento diciamo al prossimo al prossimo webinar poi di Asintel di cui riceverete comunicazione con i soliti con i soliti canali canali con i soliti di Asintel